La zona economica speciale adriatica Puglia-Molise va riperimetrata perché parola del commissario straordinario Manlio Guadagnolo non è stata fatta in maniera ortodossa dalle regioni. Lo ha dichiarato nel corso di un incontro con gli imprenditori tenuti in Puglia e ribadito qualche giorno fa a Campobasso in un analogo contesto. Ma per procedere all'ampiamento che consenta di allargare la platea di imprenditori interessati a presentare progetti di investimento e di sviluppo del territorio c'è da attendere un passaggio fondamentale, la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che consentirà di dare attuazioni all'emendamento dello stesso guadagnolo inserito nel PNRR e che autorizza tale modifica della perimetrazione. Il passaggio è tecnico ma di grande importanza per il rilancio produttivo ed economico di insediamenti industriali come quello di Pozzilli. Proprio per questo e per accelerare i tempi la Presidente del Nucleo Stefania Passarelli a quell'incontro ha partecipato con un gruppo di imprenditori locali interessati al progetto. Purtroppo noi ci siamo attenuti come consorzio industriale a quello che era la richiesta della regione molise cioè di evidenziare le aree per farle rientrare in area ZES dove non c'erano insediamenti industriali. Quindi nell'area industriale di Pozzilli parliamo di Fonderghisa, parliamo di RER, parliamo di poca roba. Dopodiché siccome con il commissario della ZES ci eravamo sentiti e ci sta la possibilità di dare ulteriore spazio a questa zona ZES quindi siamo andati con degli imprenditori che hanno possibilità di finanziamento e voglia ancora di fare se non ce la facciamo passare e quindi per chiedere informazioni su come fare. Il commissario è stato molto gentile, molto professionale, ci ha spiegato che questa cosa è fattibile ed è possibile. Sta aspettando la firma del decreto di PCM con questi imprenditori che hanno disponibilità economica e voglia di fare si siederanno a un tavolino. Lui ha detto chiaramente che questi progetti saranno, sarà possibile farli rientrare in zona ZES purché hanno un risvolto occupazionale. Per intenderci impianti fotovoltaici che non portano assunzione di personale non saranno proprio presi in considerazione. Quindi gli imprenditori sono stati soddisfatti, hanno posto le domande, hanno chiesto chiarimenti e quindi siamo in attesa, speriamo quanto prima, di questa firma, di questo decreto di PCM per vedere sorgere altre imprese qui nell'area industriale. E a proposito di ricaduti occupazionali sul territorio? Si parla di un'ottantina di posti di lavoro che potrebbero essere creati? Sì, speriamo, 50, 80, quello che sia, ma ogni posto di lavoro in questo momento vale oro.